Nel febbraio 1990 Leo Vadala, un ragazzo di 15 anni di Savona, morì a causa di un incidente stradale. Leo aveva deciso di trascorrere il sabato sera come era solito fare in compagnia di amici in un bar di Cadivona. Dopo la serata Leo, il sel al suo motorino, percorse la statale 29 di Cadivona per fare il ritorno a casa a Savona. L'incidente avvenne a Maschio, all'altezza delle case Serafini. Leo, a bordo della sua moto Garelli 50, si è scontrato con una Fiat guidata da un ragazzo di pallare. Leo morì sul corpo. A causare l'incidente sarebbe stato o un improvviso malore oppure un colpo di sonno del conducente dell'auto. Una preghiera per Leo.